E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati finalmente su una serie Minecraft principale Allora, oggi dobbiamo fare una cosa molto importante, ovvero dobbiamo portare assolutissimamente i villager vicino a casa nostra Perché? Perché ho iniziato a fare veramente tantissime cose con i villager, per esempio la farm di ferro, delle farm automatiche di cibo Quindi grano, patate, carote e avere dei villager con un commerciale e moltissime cose Quindi per fare tutto questo dobbiamo assolutissimamente avere dei villager vicino a casa Tra l'altro ragazzi, mi servirebbe un vostro consiglio, ovvero, cioè peraltro una vostra spiegazione Perché io non so assolutamente come fare a riprodurre i villager, ovvero ho provato a fare un qualcosa di mia testa, di mio pugno nel mondo in creativa Ma quello che ho fatto è stata una farm di ferro, quindi so come fare la farm di ferro, ma non so come moltiplicare, cioè come fare a coppia dei villager Quello è, non sono ancora riuscito a farlo, quindi se mi riuscite a dire nei commenti come fare, me ne sarei molto grato Anche perché, ripeto, ho scoperto dal nulla come fare la farm di ferro, ma non so come moltiplicare i villager Quindi penso sia un problema non poter moltiplicare i villager Detto ciò, partiamo col video Allora, siamo in questo piccolo loculo e abbiamo in piano una cosa, ovvero, qui siamo vicinissimi a casa, tranquillamente sotto terra qua E dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo far partire una ferrovia che da qui passi sotto terra Ho sbagliato a mettere le scale, mi sa E arrivi dai nostri villager I villager siamo stati direi abbastanza fortunati perché non sono così lontani Sono sì, lontanini, ma poteva andare decisamente peggio Basta oltrepassare questo piccolo oceano per poi andare oltre questa montagna semplicemente qui Quindi ragazzi, direi che è abbastanza facile come cosa Basta fare, tipo, sempre dritto finché non arriviamo circa qui Circa, sì, all'incirca qui E poi da qui sempre dritto finché non arriviamo a casa Quindi ci sarà una curva Ovviamente usiamo la nostra farm di rotaie per portare i villager E detto ciò, devo soltanto sperare e pregare di non beccare l'acqua mentre scaviamo Detto ciò, direi che possiamo anche partire, quindi i torci non ci servono Dobbiamo arrivare Ah, giusto, io ho fatto tutto questo Dobbiamo dire che prendo le coordinate più o meno per capire dove devo arrivare Ah, le coordinate 1800 Me le segno perché se no me le scordo sicuramente Me le porto sicuramente Ovviamente questo è solo un posticino, dove mettere i villager momentaneamente Quindi via, dobbiamo ovviamente incominciare a fare tutto un bel buco Io ho paurissima, ma veramente tanta paura Che ci sia appunto il mare All'incirca noi siamo a una... Quando dobbiamo fare? 300 blocchi No, ragazzi, siamo... 300 blocchi devo scavare Oh, madre di Dio, non la finiamo più sta roba qui Ma sarà lunghissima una farra, ragazzi, ma veramente lunghissima sarà In tutto ciò mi serve controllare una cosa Qui siamo all'altezza 42, ok Per evitare di andare troppo basso e troppo alti Voglio prima controllare a che profondità arriva il mare qua davanti Ah, ma ok, non tantissimo, ma stavo di più Ok, ah, ok, ok, 49 qui Invece da questa parte di qua scende, immagino, no? Orca vacca se scende, regà Ma di quanto scende qui? No, tantissimo, tantissimo, tantissimo In questo momento siamo 34 31 scende qui No, dai, è uno scherzo Oh mio Dio, quanto abbiamo scenduto 31, quindi dobbiamo arrivare circa a un 25 per essere tranquilli in questo posto Ok, fermi un secondo, c'è un problema Mi sono appena accorto che se faccio una roba alta così I villager picchiano la testa e prendono un danno E rischiano di morire con tutte queste scale, quindi dobbiamo farlo alto 4 Non alto 3 qua praticamente, madonna Ok, con calma E sono solo 300 blocchi, dai Soltanto 300 blocchi Poi, tu dici, eh beh, una volta che fai così poi è facile No, perché poi dobbiamo anche salire poi Perché ovviamente è sopra il villager di Villager, non sotto Quindi dobbiamo anche risalire con tutti questi blocchi del cavolo Ok, 25 Quindi torcia qui Ora si va avanti di blocchi 3 in 3 Finché non arriviamo dall'altra parte del lago In tutto questo siamo a meno 600 Praticamente mancano un... Abbiamo fatto 50 blocchi ragazzi Mi mancano ancora 250 praticamente What? Questa roba è una grotta? Ma dai, dove sono finito? Questa è una grotta che stavamo per andare appunto in giro Per esplorare tutto quanto Tanto tempo fa Questa è una vecchissima grotta della serie L'abbiamo ritrovata Ma dai Però ovviamente non voglio alcun tipo di sorprese Nella nostra ferrovia Quindi chiudiamo tutto E proseguiamo Allora, sto provando una cosa E direi che proseguiamo così Nel senso Penso che da qui in poi Farò largo 1 Nel senso È fisicamente impossibile far largo 9 Cioè un 3x3 ragazzi È troppo grande Ci metto veramente tipo Un 10 Ma stiamo seri? Una miniera abbandonata Ho trovato? Cioè La cercavo da anni E qui la trovo? Ma che... Ma... Ok, vabbè Calma, calma Non è successo nulla Non è successo Assolutissimamente Nulla Salvo casi particolari Penso che proseguirò Con l'1x2 Che avevo prevendito prima Adesso Non penso che I villager prendano alcun tipo di danno E obiettivamente Non ha senso farlo un 3x3 Quindi proseguiamo così ancora E... Arruggiamo quindi il nostro obiettivo Ma... Ma basta 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 Ragazzi Mancano 40 blocchi È un'emozione fantastica Cioè Mancano Esattamente 20 blocchi neanche E tu Mi fai trovare La lava Ora Ok Va bene Va bene Ok Abbiamo detto 8... Fermi Sto addirittura L'ho sorpassato Ok Va bene Quindi qua ci sarà la curva Il problema ragazzi È che non mi sono notato Le coordinate del villaggio Il che potrebbe essere Un po' Un problema Però 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 Direi che possiamo incominciare Tipo a salire Saliamo di 4 Ok Penso che Salire con un 3x3 Come abbiamo fatto per scendere Sarebbe stato Veramente Veramente lunghissimo Allora Teoricamente Dovrebbe mancare Veramente poco Quindi Siamo Altezza 53 Fra un po' Fra un pochino Dovrebbe poter sedere La luce del sole Cosa Molto Credita Visto che non voglio fare L'ingresso Sotto terra Come appunto Per casa nostra Terra vuol dire Luce Oh mio dio Sì Ok Ho perfettamente Dove Volevo essere Ok Quindi A questo punto Dritti per dritti E Oltre quella montagna Se Tutti i miei calcoli Precisissimi Sono stati corretti Allora Dovremo sbucare Di fronte Al nostro Villaggio Qui Qui è dove Arriva La nostra Ferrovia Noi vogliamo Farla arrivare Visto che Comunque Passerà uno Sotto Qui Vogliamo farla Arrivare Esattamente Qui Quindi Noi continuiamo a Schiavare Quora avanti Ok E qui ci sono Finalmente I nostri Villager Quindi Dobbiamo provare Un secondo L'aprire Qui Ok Quindi non possono Uscire Oh Perfetto Ora manca Soltà Soltanto Soltanto Il Fatto Delle Ferrovie Teoricamente Il nostro Farmer di Rail Dovrebbe Aver Fatto Abbastanza Pezzi Spero che I pezzi Siano sufficienti Ragazzi Abbiamo fatto Una Bella Scavata Dovrebbe Averla messa Tutta Più o meno In timelapse E vediamo Quanti casino Ho fatto E come immaginiamo Fermati 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 Allora Mi sono svuotato L'inventario Quindi sono circa Mezzo stack Quindi facciamo così Così Cioè Questi sono circa 150 Poco più Quindi servono Uno Due Tre Solo per fare La prima parte E poi direi Un altro Tre Per fare la seconda Perché magari Era un po' più Un po' più corta Facciamo quattro Così dovremmo essere sicuri E prendiamo due Di questi Ok Quindi questo Mettiamo giù Perché non ci interessa E direi che possiamo Anche iniziare A posizionare I blocchi Ok Va bene Allora La mia idea È di far arrivare Qua i villager E di farli Cadere Qui sotto Quindi 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 A me Rotaglie E a me Spero che bastino Le lamba di reale Adesso non dovrebbero Tricamente bastare Quindi facciamo così Qui prende tutto Prende tutto Perfetto Ragazzi ne manca poco E manca poco Manca poco E qualcuno Deve venire No Si è Bello Dai Un'altra volta Il creeper Prima che si avvicini Dovrà passare sul mio cadavere No regalo Cioè un creeper Qua lo ammazzo io Non mi frega niente Letteralmente Ma più volte lo ammazzo io Che Madonna mia Ok Tanto è quasi giorno Quindi Pure Buone notizie Che arrivano Oh Perfetto Poi Come prima Qua all'angolo Qui raccattiamo le cose Che abbiamo preso Oh Si Si Ok Allora Quindi L'ultima No Una delle ultime rotaie così Mettiamo di nuovo Quelle potenziate E Andiamo avanti A fare Quest'ultimo Pezzettino Ragazzi Non sapete Che sollievo Oh Ora Dobbiamo Semplicemente Prendere Il nostro Minecart E Innanzitutto fare Una piccola piattaforma Qui Anzi Facciamo così Una cosa Interessante Facciamo tipo Mettiamo Allora Potete per favore Levarvi Grazie Facciamo una roba Di questo tipo E facciamo una piattaforma Per far Incastrare I villager Qui dentro Perfetto Dicevo Prendiamo Il nostro Minecart No Un minecart A casa Che palle Ferro 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 Ok Io ne farei tipo Un paio Di minecart Bisogna essere un po' tranquilli Così E così Ciuf Ciuf Ed eccoci qua Ok Prendiamo mezzo L'anno quando arriviamo Però no 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 Dai No Te lo giuro Che se in questo momento Avessi fatto Soltanto Un minecart Avrei preso Chiudito il gioco Disinstallato Minecraft E il pigio Sarebbe volato Fuori dalla finestra Fiamo una cosa Va Chiudiamo un secondo Qui Perché Se no È un casino Prendiamo il secondo Minecart Lo mettiamo qui Ok Mamma ragazzi Questa è una tecnica Tecnica allucinante Questa è Vai vai Oh Ok Ma Non era lui Quello che doveva entrare Vabbè E Ferro un secondo Per permesso Ok Rompiamo qui Vada villager No ma devi Devi levarti Ora tu devi Leva No Tutti ora Fermi 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 Levati Devi levare Villager Si levi dalle palle Ok Allora Lei Fuori di qui Fuori Fuori Cioè Prima non Cioè Prima non c'era nessuno Provo portare un villager dentro Ok Arrivano milioni di villager Ok C'è un raduno populista di villager qui dentro Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Quanta pazienza in questo gioco ragazzi Quanta pazienza Teoricamente Ok Oddio mio Ora Allora Teoricamente Se a questo punto Tutto È andato a secondi piani Dovremmo arrivare qui Con un minecart Vuoto No Ok Sì E con un villager Che sta per arrivare Vero? Oh ve lo Oh Oh ve lo C'è 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 Fero Sì ok C'è 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 Ok Il villager sta arrivando Perfetto Madonna ragazzi Che parto sta roba Veramente un parto allucinante Teoricamente dovrebbe portarci su I villager Anche lui dovrebbe salire E una volta Arrivato qua Prende tipo mezzo cuore Di qua E mezzo cuore di là Perfetto Quindi questo rompiamo Questo chiudiamo qui Ok Ricopriamo il minecart Che adesso non recuperiamo Perché o recuperiamo Invece come se recuperiamo E il villager finalmente È a casa nostra Ok Perf Basta Basta Qui chiudiamo Se no il villager esce E io mi sparo Un colpo Se il villager esce Direi che ragazzi La missione È stata Perfettamente compiuta Ora porterò Un altro paio di villager Qua E mi raccomando ragazzi Prendete nei commenti Ricordate di considerarmi Anzi di dirmi E come appunto posso fare Per moltiplicare E far accoppiare questi villager Io vi ringrazio Come sempre tantissimo Della visione di colma Like e commento Se vi è piaciuto Noi ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao Ciao